Mister Fauciana, era importante vincere, il Machidella ci è uscito con una bella prestazione in casa, l'incantesimo spezzato dalle sconfitte consecutive. Sì, non vincevamo dal 17 gennaio, quindi per noi era importante oggi portare i tre punti a casa contro una diretta concorrente. Bravi nel saper gestire la partita e comunque nell'approccio alla gara, i ragazzi sono stati determinati fin dall'inizio perché volevamo portare punti importanti e merito a loro. La salvezza adesso è un passo? Ancora c'è da fare, secondo me, altri sette punti, quindi bisogna assolutamente vincere anche la prossima che ce l'abbiamo dentro casa e di conseguenza sperare anche che gli altri frenino il percorso che ce li siamo ritrovati dietro e quindi diciamo che la classifica si è accorciata alzando la media della salvezza. Ma questo è un Machidella che ce la può fare secondo te? Sì, se giocano con questa determinazione, io credo che comunque i ragazzi hanno dimostrato oggi di saper giocare a calcio e soprattutto che lo sono sempre stato convinto che i ragazzi meritano di giocare in questa categoria perché veramente stanno crescendo gara dopo gara. Ripeto che oggi è debutato anche il 99, quindi per me è un motivo d'orgoglio portare i giovani a giocare in queste categorie che è un trampolino di lancio per loro stessi. Doppi turni comunque per alcuni giocatori che giocano anche con la formazione Juniors, tra l'altro neo vincitrice della fase provinciale. Sì, bene, diciamo che l'80% della prima squadra è costituito di ragazzi della Juniors, quindi merito a loro perché sono riusciti a fare benissimo nel campionato Juniors e fanno altrettanto bene nella prima squadra. Però in prima squadra c'è bisogno di un più di più esperienze e convendo che un altro anno faranno quello che devono fare, cioè nel senso che meritare posizioni più importanti. Grazie.